Il comune di Agropoli è risultato vincitore del bando Wi-Fi 4EU, l'iniziativa dell'Unione Europea che finanzia l'installazione di rete Wi-Fi gratuite negli spazi pubblici quali parchi, piazzi, uffici pubblici, biblioteche e centri sanitari. Sarà quindi destinatario di un voucher di 15.000 euro per creare gli hotspot necessari all'entrata in funzione delle reti internet o per la loro integrazione. Agropoli rientra tra le 3.400 municipalità europee e vincitrici sulle oltre 10.000 che hanno partecipato al bando. Sono 510 i comuni italiani assegnati in totale. L'ente aveva già partecipato a precedenti bandi nel gennaio 2018 e a novembre 2018, non riuscendo però a rientrare tra gli assegnatari dei voucher. La partecipazione al bando di febbraio 2019 invece è andata a buon fine. L'adesione prevede che dopo aver effettuato la registrazione al portale dedicato venga rilasciato un codice grazie al quale è possibile partecipare al click day. In pratica, nel giorno di avvio del bando, chi è più veloce a cliccare sul pulsante di adesione può vedersi assegnato il voucher. Nell'ultimo bando, infatti, il 98% dei voucher è stato assegnato nei primi 60 secondi di apertura dello stesso sulla base del criterio prima arrivato, prima servito. Ora gli uffici dovranno presentare il progetto tramite il medesimo portale con le specifiche del caso, il buono wifi 4EU e un pagamento forfettario volto a coprire i costi delle apparecchiature ed installazione degli hotspot wifi. Toccherà poi ai comuni sostenere i costi della connettività, abbonamento a internet, della manutenzione e di funzionamento delle apparecchiature per almeno tre anni. Attualmente i hotspot gratuiti attivi sono presenti in piazza Vittorio Veneto, stazione ferroviaria, porto e centro storico. Grazie alla tempestività degli uffici, afferma il sindaco Coppola, il nostro comune si è aggiudicato 15.000 euro relativi al wifi 4EU per la creazione di hotspot wifi negli spazi pubblici. Potranno essere utilizzati per migliorare i punti hotspot già presenti o crearne di nuovi in zone della città in cui gli stessi non siano già attivi. Nell'era in cui internet è divenuto indispensabile, creare nuovi punti di accesso gratuito rende la nostra città sempre più al passo con i tempi.